Marco Cellini, un inizio di campionato un po' travagliato, poi adesso finalmente sembra che abbiate imboccato la strada giusta. Sì, stiamo cercando di essere più compatti possibile, di rischiare meno possibile, dall'arrivo del Ministro Mondonico penso ci siamo riusciti abbastanza bene. Penso che per raggiungere l'obiettivo bisogna essere duri da abbattere, subire pochi gol e poi i gol nostri arriveranno. Ecco, sabato il Comunale arriva al Modena, dovete cercare di confermare la buona prestazione di Cesena? Sì, sì, il nostro obiettivo è sicuramente la vittoria, giochiamo in casa, abbiamo potuto lavorare bene queste due settimane, abbiamo lavorato tanto, per cui c'è grande voglia di fare tre punti. Ecco, veniamo all'argomento caldo, il tuo contratto, a che punto siamo? No, non è un argomento caldo, ancora ci dobbiamo incontrare, ma con la massa della serenità è da vedere tutto. Ecco, ci hai parlato di un interessamento anche dell'Atalanta, come vedi questa possibilità? Non ne so niente. Comunque ti piacerebbe vestire la maglia? Ma stai, andare in Serie A piacerebbe a tutti, il sogno di tutti, però adesso dobbiamo pensare tutti ad avvenire.